Ben trovati a Da Tu per Tu, la trasmissione realizzata da Trentino TV in collaborazione con il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento. Siamo con il consigliere Claudio Cia del gruppo Mist e fondatore di Agire per il Trentino. Buongiorno, ben arrivato. È inevitabile parlare con lei, consigliere Cia di Sanità. Abbiamo visto che proprio da pochi giorni è stato presentato a Roma un rapporto sulla sanità trentina che la vede ai vertici a livello nazionale. Vorrei un commento da lei su questo rapporto e poi sulla sanità trentina in generale vista dagli occhi di Claudio Cia. Allora, per quanto riguarda il rapporto presentato a Roma, qualche perplessità io la pongo, soprattutto perché vivo il territorio, vivo quanto i cittadini mi riferiscono. Comunque, se del positivo è stato evidenziato nella sanità trentina, questo lo dobbiamo sicuramente non tanto alla politica, non tanto alle infrastrutture, ma piuttosto agli operatori, ai medici, agli infermieri, agli os. Sono loro che determinano la qualità di un servizio e riescono a farlo nonostante i tagli che la sanità ha subito in Trentino. Tagli che spesso ha penalizzato proprio il lavoro di questi sanitari, che si trovano a fare dei turni di lavoro spaventosi. Quindi, sicuramente, se c'è un risultato positivo della sanità trentina, il grazie va rivolto soprattutto agli operatori sanitari. Secondo lei la sanità trentina è in buona salute? La sanità trentina, sicuramente rispetto a altri territori, gode di buona salute. Ripeto, sempre grazie ai nostri operatori. Va comunque evidenziato che sempre di più la sanità trentina è percepita con una certa preoccupazione. Sono tantissimi pazienti che si rivolgono alle strutture fuori provincia. Neanche a farlo posto, proprio ieri pomeriggio io ho accompagnato un paziente a Peschiera per una visita urologica. Perché, secondo questo paziente, a Trento l'urologia non funziona come dovrebbe funzionare. Molti pazienti vanno a farsi visitare da specialisti o da medici in regime di libera professione. Molti pazienti vanno fuori provincia a farsi visitare. Abbiamo fatto noi un sondaggio che è stato presentato circa 15 giorni fa, in cui il 77% delle persone intervistate, sono state 1.500 le persone intervistate, hanno richiesto una prestazione specialistica, una visita ambulatoriale, attraverso medici liberi professionisti, quindi a pagamento. Nonostante le persone paghino le tasse e quando uno paga le tasse ritiene che la tassa dovrebbe essere un investimento che al bisogno dovrebbe ritornare in servizi. Ma evidentemente qualcosa non funziona. Questo per quanto riguarda la sanità. Stiamo su un altro argomento di attualità. Come sapete, in Consiglio Provinciale è stata approvata la legge per la gestione dei grandi carnivori come Lupo ed Orso, una legge che ha fatto discutere a livello nazionale. Adesso c'è uno scontro, abbiamo visto, proprio a livello nazionale tra Lega e 5 Stelle. Fugatti ha detto che se ne interesserà. Ecco, è una questione spinosa. Lei si è astenuto dal voto in Consiglio Provinciale, però sappiamo che è una questione che è molto sentita dai trentini, soprattutto che vivono in alcune zone. Io non è che mi sia astenuto. Io semplicemente non ho partecipato al voto per il semplice fatto che questa legge è arrivata in aula con una nota che l'accompagna dell'ufficio competente del Consiglio Provinciale, dell'ufficio legislativo, dove scriveva chiaramente che la legge presenta profili di incostituzionalità. Allora, noi sono cinque anni che in Consiglio Provinciale portiamo avanti le preoccupazioni degli allevatori e comunque della cittadinanza riguardo proprio all'eccessiva presenza o pericolosità di lupi e orsi. In questi cinque anni ci hanno sempre detto che va tutto bene, che basta un campanellino, che bisogna imparare a convivere con questi animali e così via. Poi improvvisamente è arrivata questa legge ormai all'inizio di una campagna elettorale e questa legge arriva in aula con questa nota di profili di incostituzionalità. Allora, per rispetto proprio degli allevatori, io ho ritenuto di non partecipare al voto perché non possiamo prendere in giro le persone quando sappiamo che a Roma questa legge verrà impugnata e verrà fermata. L'impressione mia è che si sia voluto portare questa legge solo per cercare di catalizzare un consenso elettorale in vista proprio delle prossime provinciali. Il problema è che gli allevatori rimarranno ancora senza una reale risposta che dia veramente a loro quella tranquillità che consente di poter vivere la montagna. Siamo quasi in chiusura, però parliamo prima di chiudere di giovani. Qual è il futuro per i giovani trentini, CIA? Guardi, noi abbiamo che un quarto delle persone che lasciano il Trentino per andare all'estero e proprio rappresentato da persone che hanno tra i 18 e i 35 anni. Sono persone che vanno all'estero non tanto per studiare ma veramente in cerca di lavoro. Noi presenteremo nei prossimi giorni un sondaggio molto interessante fatto proprio sui giovani, come loro vivono il territorio, come loro vivono la loro preoccupazione del futuro. Ecco, quello presenteremo a non anticipo nulla anche per rispetto di chi sta terminando il lavoro. Bene, grazie a Claudio CIA, consigliere provinciale del gruppo misto, fondatore di Agire per il Trentino. Per A Tu, per Tu, per questa puntata è tutto. Grazie di essere stato con noi, grazie a voi di averci seguito. Arrivederci. Grazie. Grazie.